Allora, ciao ragazzi, ciao ragazze, oggi faccio vedere cosa ho preso ieri da Tezenis, perché sono stata da Tezenis con mia madre e ho fatto un po' di acquisti. Allora, cominciamo da questa camicia, che è costata a 16,90 euro, che è di jeans, che è praticamente fatta così. Allora, ha il colletto in jeans, questa parte del davanti è fatta così in pizzo, come anche il dietro, e poi è fatta tutta a jeans con i bottoni e dietro ha praticamente queste code così, che sono sbilacciate. Poi ho preso questa maglia, che è costata a 12,90 euro, che ora la vedete al rovescio, però, il concetto è sempre lo stesso, che è fatta così, è bianca, ed è molto leggera, molto fresca per l'estate. Poi ho preso gli leggings più corti, che arrivano praticamente sotto il ginocchio, neri, semplicissimi, sono costati 7,90 euro. Poi ho comprato questo vestitino, che è costato 12,90 euro, che è praticamente tutto nero, vedete così, fatto così, che è praticamente a questa parte del sopra, con questo volà e alle bretelle. Poi ho comprato, in parte del braccio, un pantaloncino, fatto così, che è costato a 12,90, per me i prezzi sono sempre gli stessi, che ha questa fantasia, e ha sulla gamba praticamente questi lacciettini, che almeno a quanto ho capito servirebbero per arricciare la parte di qua. Sono molto morbidi e freschi, anche questi, non sono troppo aderenti. Poi, ho preso due canottiere, perché c'era praticamente il 2x15,90, l'ho presa una nera, così, con il pizzo di davanti. Credo che ho visto queste e queste stesse da De Valentina, però non ne sono sicura, non so mai che non sono sicura che fosse questo il modello. e l'ho presa anche turchese per metterla insieme ad un pantalone che ho comprato in un video che vi ho fatto vedere prima. Poi, ultima cosa, o meglio, quella nera è stata comprata, ora vi faccio vedere per cosa per metterla. Sotto questa, che è praticamente fatta così, nel davanti. Non so se è riuscito a vedere a fuoco. e dietro è praticamente scollata così. Siccome è, mi sa, troppo scollata sia davanti che di dietro, e lì ce l'avevano messa con un'altra fantasia tutte le commesse, ho deciso di prendere appunto questa per metterla sotto questa cosa che vi ho fatto vedere e questa qui per metterla sopra quel pantalone. Niente, io non ho pagato moltissimo. comunque tutte le cose, questa qui, che è l'ultima, sono dimenticata, è costata 10,90€. Niente, ragazzi, ora io registrerò un mi preparo con voi. Ora vediamo cosa devo mettere di queste cose, perché c'è un tempo che non capisco, per cui non so se mettere qualcosa o qualun'altra. Vi farò sapere e vedere nel prossimo video. Ciao, ciao!